Come mi chiamo? Il ballone? Come mi chiamo io? Come si chiama? Domana? Apefana, Apefana. Manuela? Manuela, vedete che dopo mi faccio la domanda. Francesca, come si chiama? Lei come si chiama? Apefana, Apefana. Si chiama Francesca? Come si chiama Ilania? Ma state a te, allora. E' quella più brutta, come si chiama? Mattia, come mi chiama? Come ti chiedi? Come ti chiamo? Io. 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 Io, stavo. E chi è? Ti chiamo io, lei.